salve cari amiche ed amici e salve a te antonio trotta che mi chiede sempre dei tutorial sui cellulari oggi vi presento un tutorial review cioè vi faccio vedere un ringtone di un vecchio cellulare uscito mi sembra nel 2011 il samsung samsung galaxy young 53 60 spero che vi piacciano questi suoni durano molto quindi io li lascio in esecuzione poco tempo perché altrimenti il video andrebbe tanto largo al contrario dei ringtones di altri cellulari questi non durano 40 secondi o 20 secondi potrebbero durare in eterno magari durano 10 20 minuti quindi se voi potrete ritagliate i ringtones dal video per utilizzarli come i vostri ringtones nel cellulare ma io alla prima o seconda ripetizione passo all'altro ringtones perché è un video puramente dimostrativo non per caricare due o tre minuti di ogni ringtones altrimenti verrebbe troppo pesante da evitare nel computer allora buon divertimento e dalla prossima ciao ecco qua abbiamo avviato il galaxy young 53 60 gt 53 60 della samsung questo è un video che dedico antonio trotta perché sempre mi chiede tutorial sui cellulari speriamo che questo cellulare durante il tutorial non mi pianti in asso perché ha il bottone power rotto e va in bot log sblocchiamo vi voglio fare sentire subito c'è un inconveniente voglio fare sentire i suoni il parlante c'è là dietro quindi lo prendo in mano ciao 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 cci sono tutti i ringtones Grazie a tutti. Vediamo circa l'android. La versione di questo android è 2.3.6, la versione attualizzata del gingerbread, il famoso disegnino che ha perturbato molte persone, credendo che alludeva che tutti quelli che utilizzavano l'android gingerbread diventavano degli zombie. Come si vede, c'è un gingerbread famelico, un android preso dalla mano dal gingerbread e tanti zombie che camminano sembrano in un cimitero allo stile trailer di Michael Jackson. Quindi questo è stato il mio tutorial, per fortuna che non mi ha piantato in asso, perché purtroppo questo cellulare, questo smartphone, soffre di bot log, cioè ogni tanto si riaccende solo. Come vedete, stiamo trasmettendo, cioè io sto filmando in questo momento dal vivo, 21 e 11 fanno 10 gradi e vabbè oggi hanno fatto 15 e faranno 8 di minima. C'è da dire che questo cellulare è asincopato perché ogni volta sballa. Io poi per chiuderlo non posso utilizzare il bottone power, questo qua. Allora gli ho caricato switch off che è questo puntino per oscurarlo. E per spegnerlo lo apro, gli tolgo la batteria. Per riattivarlo faccio così. Vedete? 21 e 14, monday 6 november. A volte non risponde. E dice sweep screen to unlock. Ecco qua. Poi altro sul sistema operativo. Ho già fatto un tutorial quando funzionava meglio. Adesso non c'è la memoria dentro, però questo è il menu contestuale. Vi ho fatto sentire i ringtones. Non voglio fare un video troppo pesante. Con questo è tutto. Per il momento non va in boot log, perché vorrei fare un video nel quale faccio vedere come va in boot log. Questo è tutto care amiche ed amici. Spero che il mio video sul Samsung Galaxy Yung 5360 con sistema operativo Android Gingerbread 2.3.6 vi sia piaciuto. Per il momento non ho altri cellulari con i quali farvi ascoltare dei ringtones. Però se avete un'idea e soprattutto se questi cellulari, se i video su questi cellulari, se questi tutorial saranno visti molte volte e voi mi farete delle domande pertinenti, io cercherò di farvi vedere qualche altro aspetto di questi cellulari. L'importante è che mi facciate delle domande, perché questo è l'ultimo video tutorial che faccio sui ringtones dei cellulari. Primo, perché non ho altri cellulari, cioè ce ne avrei un altro. Secondo, perché non sono dei video che sono molto visti e preferisco cambiare di argomento. Lo faccio soltanto per andare incontro alle vostre richieste. Siccome Antonio Trotta mi domanda molte volte di fare dei video tutorial sui cellulari, cerco come spettatore mio di soddisfarlo. Poi vi chiedo, come sempre, innanzitutto di dare like, commentare e condividere i video e poi di aiutarmi a superare quota 1000 iscritti, come iscrivendovi al canale, azionando la campanella e invitando altri vostri amici. Non me l'ho chiesto all'inizio di questo video, perché non voglio ruffianarvi. Quindi prima ho iniziato a filmare i ringtones, perché c'è il problema del bot log, magari si spegneva il cellulare. Poi ho registrato l'intro del video. Adesso che filmo il terzo video, che è di conclusione, vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, di fare iscrivervi i vostri amici, i contatti, condividete il link dei video miei che vi piacciono di più, dategli like, commentateli e mi raccomando, grazie per seguirmi, ma aiutatemi a superare quota 1000 iscritti. Un cordiale saluto dal vostro Saint Saint John e ci ritroveremo a presto con video su altri argomenti. Arrivederci, perché voglio anch'io partecipare, voglio anch'io vedere come la monetizzazione del chat nei video live streaming, perché ho visto che molti contatti e amici miei hanno la possibilità che chi chat ha con loro monetizzi il loro intervento chat. Voglio che sia valido anche per me, soltanto che ci occorrono più di 1000 iscritti. Quindi aiutatemi a monetizzare i chat dei miei live, facendomi aumentare a più di 1000 iscritti, gli iscritti che già ho, che sono a 900 e passa, a 970. Grazie di tutto, grazie per essere con me, grazie per appoggiarmi, per guardarmi i video, bla bla bla, ciao! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.